Si è insediato ufficialmente il Consiglio dei Cittadini per la Salute, organismo di partecipazione istituito dalla Regione Toscana nel 2017 per consentire una maggiore e più attiva partecipazione degli utenti alla pianificazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari. I 23 membri del Consiglio prendono quindi parte allo sviluppo dei servizi e contribuiscono al processo decisionale nonché al monitoraggio sia dell'equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie che della qualità e della sicurezza delle risposte. Sono ovviamente funzioni di proposta riguardo innanzitutto agli atti di programmazione, alle delibere che vengono predisposte in dimensione di area vasta ma anche in dimensione dipartimentale. Quindi uno strumento di partecipazione deve essere insediato e poi deve essere fatto lavorare. Molte volte questa partecipazione ha dato risultati importanti. Di solito la partecipazione veniva data dalle associazioni di volontariato. Adesso sono cittadini e questo rende la cosa ancora più interessante. Il Consiglio dei Cittadini per la Salute è in funzione presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione. Lo presiede l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. I 23 membri sono stati designati dai comitati aziendali di partecipazione e da altri organismi di partecipazione regionali.